Dove acquistavate i vestiti? Non si acquistavano i vestiti, si facevano con quello che avanzavano dai grandi, scattavano i pantaloni, i genitori gliele facevano i bambini e lo stesso per le femmini. Non c'erano negozi che ci sono adesso e c'erano le satte che aggiustavano o rifacevano da un pezzetto di stoffa dal tabarro di militare, ti facevano dentro il cappotto.